Questa settimana per Oltrestretto abbiamo un'intervista particolare, siamo in collegamento via Skype con due giovani messinesi Gaetano Biondo e Ivano Rotondo, rispettivamente dalle loro città, in questo momento nelle città in cui vivono e lavorano, gli diamo intanto il benvenuto, ciao Gaetano e ciao Ivano, grazie per aver accettato il nostro invito. E allora cominciamo da dove siete, dove vi trovate in questo momento e perché? Io in questo momento mi trovo in Svizzera, a Lugano, in questa città del canton Ticino e dirigo una piccola agenzia di comunicazione e marketing che ho fondato dopo un po' di lavori in questo settore, sempre in questa città. Io mi trovo a Barcellona, di Spagna, non Pozzo di Cotto e faccio l'ingegnere informatico, lavoro per un'azienda di sviluppo software. Siete insieme in questa intervista perché c'è una cosa che vi accomuna, oltre a essere entrambi messinesi, c'è un progetto che vi vede complici e compagni di viaggio, di cosa si tratta? Il progetto che ci vede insieme per la prima volta lavorativamente dopo essere stati anche compagni al liceo, a Messina, a scuola, è un progetto che mette insieme le nostre competenze, le nostre capacità ed è un'app, si chiama Mamma Italia ed è un motore di ricerca per trovare i prodotti alimentari italiani all'estero. Ivano, com'è nata questa idea? Quest'idea dal mio punto di vista è stata che mi telefona Gaetano e mi dice che hanno avuto questa illuminazione, che dovevamo creare un'app per aiutare chi vive all'estero a trovare i prodotti italiani, che è sempre difficile trovare. Uno che ha vissuto all'estero sa quanto sia difficile. Io ero appena stato in Giappone, la mia esperienza è stata proprio questa, per me trovare i prodotti è stato veramente molto complicato e quindi subito mi sono lasciato coinvolgere nel progetto. Avete iniziato da poco, è un'app relativamente giovane, però già ha registrato dei numeri importanti e soprattutto negli ultimi tempi avete anche stretto delle partnership importanti che rendono Mamma Italia un'app ancora di più competitiva. In questo momento abbiamo circa 5.000 utenti che hanno provato la nostra applicazione dopo il lancio che è avvenuto circa due mesi e mezzo, tre mesi fa e non sono diciamo tanto i numeri a essere importanti quanto il coinvolgimento che le persone hanno nei confronti del nostro progetto perché ci sono tantissime persone in giro per il mondo che ci segnalano appunto la presenza di prodotti italiani nelle loro rispettive città. Noi abbiamo iniziato mappando i prodotti in alcune importanti capitali europee che sono quelle più popolate da italiani come Berlino, Londra, Madrid, Barcelona e Parigi, però persone da tutto il mondo, da Tunisi, da Melbourne, da Mosca, da Budapest ci contattano quotidianamente e ci dicono guarda che qui ci sono questi biscotti, ci sono questi tipi di sughi, questi tipi di formaggi, la pasta, il caffè che sono le cose che siamo più affezionati e adesso grazie a questo inizio che abbiamo avuto insomma abbastanza in luce perché è un bisogno molto sentito siamo riusciti a stringere alcuni accordi con delle aziende come tra le altre Levoni, appunto l'azienda di Salumi, Granoro, l'azienda di pasta e comunque anche altri player come Unsy Food, Pastificio Gentile e altre aziende che appunto esportano all'estero perché in generale diciamo anche le aziende sono unite sul fronte dell'export perché è diffuso un fenomeno di contraffazione del cibo italiano. Torniamo su quella che è un po' il vostro percorso, la vostra carriera e tutto quello che vi ha portato rispettivamente in questo momento a Lugano e a Barcellona, quindi voi avete studiato a Messina e a un certo punto siete andati via, avete fatto la valigia e siete andati via, è stata una scelta o è stata una necessità? Al mio caso è stato un po' l'insieme delle due cose perché comunque diciamo avevo iniziato anche lavorativamente a fare un po' una parte del mio percorso a Messina durante gli studi, però poi diciamo che a un certo punto ho voluto provare a mettere a confronto quello che sapevo, quello che pensavo di saper fare con obietti diversi proprio per testare le mie capacità. Alla fine diciamo che fortunatamente il riscontro è stato positivo dopo l'essere partito e quindi diciamo un progetto poi si è susseguito all'altro e ho deciso di restare per il momento fuori casa, fuori da casa e di farmi ospitare appunto in un altro paese. E tu Ivano? Ma per me è stata una scelta, io avevo anche già l'appoggio, a Milano c'era già mia sorella e sono andato a vivere per studiare al Politecnico, poi da lì sono stato, ho fatto un Erasmus in Spagna, poi sono stato in Giappone e poi mi sono trasferito a Barcellona, adesso sono un paio di anni che vivo qua, che fa un po' più caldo, ecco sì, si vive bene. Nei vostri progetti, programmi, a breve o a lunghissimo termine, c'è l'intenzione o il desiderio di tornare a Messina? Il tipo di lavoro che facciamo è qualcosa che si può fare anche da remoto, che si può fare davanti al computer, davanti a casa, quindi comunque mi capita abbastanza spesso ogni tanto di fare ritorno, comunque la nostalgia c'è ma è mitigata ogni tanto da queste puntatine appunto giù. In futuro, diciamo, ovviamente non lo escludo, però mi piace vivere giorno per giorno, settimana per settimana, perché alla fine nella nostra vita da, come posso dire, ormai professionisti di oggi, giovani di oggi, comunque può cambiare sempre tutto da un momento all'altro, quindi diciamo che, ecco, è possibile ma vedremo. Io veramente vorrei tornare a casa, vorrei tornare a Messina, per me è proprio l'obiettivo della vita, è proprio questo. Nessuno ci crede, rimangono tutti sconcertati, in realtà io, a parte la nostalgia per casa, non so, dopo aver girato il mondo, forse mi sono reso conto che, come a casa, non si sta bene da nessun'altra parte, che sì, abbiamo delle, ci sono sicuramente delle cose negative, ma ci sono tantissime cose positive che uno apprezza poi quando va fuori e non ce le ha. Quindi l'obiettivo a breve, speriamo, è quello di tornare. Ecco, e se voi che avete girato tanto e che avete esperienza di tante città, non solo italiane, ma anche all'estero, doveste dare un consiglio a questa città, per essere probabilmente anche più a misura di giovani, quale potrebbe essere, cosa manca qui, che voi in questo momento trovate altrove, oltre al lavoro praticamente, però cosa dovrebbe, secondo voi, dalla vostra prospettiva, esserci? Io non so cosa dire esattamente alla città, io il messaggio lo vorrei dare ai giovani, direttamente, perché proprio come tu dici tu, è una città cosa possiamo fare per i giovani, il problema è che i giovani se ne sono andati, cioè io, la mia generazione praticamente a Missina non c'è, sono tutti via, almeno tantissime persone che io conosco, e quindi io spero che non sia l'unico che abbia intenzione di tornare, perché in realtà ci sono tantissime cose che si possono fare da noi, spero, cioè non so, forse sono troppo ingenuo a pensarlo, ma io penso che tante cose si possono creare anche alle nostre latitudini, e il fatto è di crederci, e se si torna in tanti magari si può costruire tanto, mi piace pensare che questo periodo che tutti stiamo vivendo fuori, tutta la mia generazione, e la generazione prima e la generazione dopo, si arricchiscano per poi portare qualcosa a casa e che non restino poi via. Molte delle persone più intelligenti che ho conosciuto, oppure stando all'estero, comunque magari frequentando anche città che sono note come metropoli, in realtà sono comunque persone che vengono da Missina, o comunque gente migrata, per forza dalle nostre latitudini, o comunque dalla Sicilia, ma in generale tutta gente che magari deve spostarsi da un contesto all'altro per riuscire a far maturare quelle che sono, e a far accettare, a far, come posso dire, valere quelle che sono le loro competenze, e a mostrarle a qualcuno. Mentre probabilmente apportando soltanto magari alcuni correttivi a livello di come si può fare impresa, di come anche magari vengono appunto percepite iniziative con le nuove tecnologie, o in generale appunto creando magari un punto nevragico in cui possano emergere appunto le nuove imprese, le nuove iniziative, magari si potrebbe riuscire a fare qualcosa in più, si potrebbe riuscire appunto a far rientrare le persone. Allora, grazie Gaetano e grazie Ivano, in bocca al lupo per tutto, soprattutto per il vostro progetto comune, Mamma Italia, e speriamo a questo punto di rivederci tutti a Messina. Grazie. A presto. A presto. A presto.